Ciao a tutti, bentornati su Rosticini e K-Pop, che anche oggi è Rosticini e J-Pop e oggi io sono Giuna e sono con... Mila! Ok! Ciao! Ciao! Allora, oggi proprio parentesi giapponese andate a vedere la reaction a I&I che abbiamo fatto prima di questa quindi ancora un po' sconvolte ora ci andiamo a vedere... Abbiamo capito niente Yulia Sì, andiamo a vedere Yulia che è un artista, vabbè un solista ed è veramente... ha una voce meravigliosa è un artista meraviglioso supportatelo, andate a seguire le sue canzoni è stata delle sue canzoni supportatelo perché merito tantissimo e non lo dico perché sono di parte perché è davvero... no Ok, e quindi andiamo a vedere We Ride che è uscita una settimana fa, tipo? Eh sì Non usciva a scherzo Non ho mai aspettato così tanto per vedere un comeback di Yulia Let's go 2, 1, via Maronna in macchina Eccoci 2, 2, 5 di limonareda Sì, 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 io appena sento questi beat, sì. Sì, è sconvolta la cameriera. Sì, 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 sì. Sì, è una orata della cameriera. E che carino. E che carino. Pardon, io lo so faccio. Che vuole fare? Lui non ha capito. Non vuole fare niente, lasciare un spazio che vuole fare niente. In Giapponese, finalmente. L'ultima carta devi stare lasciando solo in inglese. E quindi... Ah, ok, ok. Ma ci sono i bulletti. Vai, salvalo. Eh, mo la vado. Ma ok, mo si picchiano. Vai, salvalo. Vai, vai. No, non direi che mo la tengo, è molto male. Ma che te... Ok, te ne vai. Va a prendere una pistola, una mazza. Oh, ok. No. Cosa le ha affumigate nella macchina? Oddio, oddio. Oddio. Si è cambiato. Si sta succedendo. No, si è cambiato il suo super-eroe. Sta per diventare tre. Sto adorando. Ah, ecco l'anteprima, ok. La sfida di ballo. Eh, che belli. Guardate che Giulia balla, si è andava a ballare. Morta. Mortissima. Bellissima. Oddio. Non capisco come era tutto. Bellissima. È stata buona. Ragazzi, madonna, l'amore. Io ho fatto 8.3 anni con la tua voce. Vabbè, che non è la faccia. Ora, ora, no. Tipo, no, ma non ti riconosco. Chi potrai mai essere? Con la calza maglia non ti riconosco. Alla montana, sei in montana. Alla montana! Super, per me. Buono. Fra sempre. Stai insieme. Dove vai? Cos'è scappi? Dai, schiede. Tutti. O mai? O mai? Vabbè, continua a dire che volerai dare. Sotto alla notte, insomma. Non è come sembra. Non è come sembra. Mi dice. No. Ti do una forza per arrivare a casa perché è buio e quindi bisogna tornare a casa. Perché sta provendo. Tu non capisci, giornate. Oddio, questo mi piace la canzone. Anche a me. È molto bella. Vabbè, cioè, ragazzi, io... È tipo super inossante. Io lo amo da morire. Buongiorno. 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 Oddio. Le ha lasciate in un punto a casa. Palo. Le ha lasciate in un punto a casa. Un po' di... Un po' di... Un po' di... Di camping. Non è incazzato. Yes! Questo ha sclero camp... Ma con questi tre sono bellissimi. Sono bellissimi. Morta! Adoro. Sono i cattivi più belli che l'ho mai visto. I cattivi. Io ho un po' la lacrimuccia perché... Io quando... Quando Giulia mi esce nel canzone nonce io sono... Sono debole per questo uomo. Sono veramente debole. È cute. È mio 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 mio. Andate a vedere questa canzone che è troppo carina e adesso ha 559 mi piace con il mio. Quindi andate ad aggiungere anche il vostro. Sì, è andato ad ascoltare anche le altre canzoni perché meritano tantissimo. Ioia è veramente un'artista. Sì, mi ricordo quella che è uscita prima di questa che mi hai fatto sentire mi sa tu. Sì, sì. Che era la prima che ha fatto con la nuova agenzia. Se non mi sbaglio. No, era la seconda. La seconda. Ah, ok. Quella... È in inglese? Sì, è in inglese. Sì, è in inglese. Sì, sì, sì. Vabbè, era carinissima e ci vediamo alla prossima. Quindi, ciao a tutti. Ciao, ciao. 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 Ciao.